ben ritrovati di nuovo su review in you oggi vado a recensire insieme a voi un articolo un po inusuale che magari potrebbe essere utile per gli appassionati della griglia si tratta di un girarrosto a uso amatoriale ma che ha veramente qualcosa di professionale perché può portare fino a 40 kg di carne e permette appunto di mettere la carne o all'interno di questa griglia che si apre si chiude come ben vedete ma anche tramite questo spiedo che è in dotazione mettere dei polletti quindi porchetta polletti o quello che volete azienda allegri comprato su amazon ad un prezzo di 215 euro più 15 euro a parte di spedizione un'azienda attiva dal 1968 che ha proprio sede a in sardegna e quindi la patria dei gli spiedi porcetti arrosto e andiamo a vederlo un attimo insieme allora questo qua il pezzo principale il motore qui sulla destra c'è un regolatore di velocità poi dopo vi leggerò al volo le i dati abbiamo questa presa quello universale che si va attaccare e poi qua praticamente tramite questa vite si può andare ad alzare il motorino su questa su queste due aste in altezza adesso non vado ad alzarlo perché ho attaccato così un attimo la griglia comunque questo perno qua si va a inserire all'interno di questo foro poi ovviamente si mette o la griglia o lo spiedo una volta messa la griglia oppure lo spiedo all'interno di questo foro ovviamente qua si può decidere anche in base all'altezza su quale dei dei fori posizionarlo e la la griglia lo spiedo gira e si cuoce quindi a fuoco lento la carne è molto solido come struttura anche la base veramente solido a questa forma diciamo qua triangolare viene fornito anche di un foglietto di istruzioni con anche lo scontrino vi vado a leggere giusto due indicazioni così per avere un'idea abbiamo allora le card che non ve l'ho fatta vedere ma è questa qua che si mette a di sotto ovviamente e abbiamo 87 per 27 in acciaio inox la leccarda la griglia lo spiedo sono 70 per 22 centimetri lunghezza 97 e niente la rotazione e da 1 a 15 giri al minuto e ci sono anche diversi dimensioni questo qua è il modello più grande link in descrizione così che potete anche voi acquistarlo e acquistare quello giusto vi lascio una clip dove si vede come gira con della carne alla griglia ma anche con dei polletti veramente un ottimo acquisto ve lo consiglio anche perché è un'azienda made in italy che funziona veramente bene se avete domande non esitate a porvele alla prossima